Gloria, Aura, Bortolini, che oggi fa tappa a Castellabate. Questo non è solo uno dei borghi più belli d'Italia, è anche patrimonio dell'umanità e lo dice l'UNESCO. Siamo a Castellabate, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Mi sa che Gioacchino Murat aveva proprio ragione, qui non si muore mai, vero Enrico? Certo, Gioacchino Murat aveva proprio ragione, di fronte a cotanta bellezza ha esclamato questa frase. Però io adesso, non solo il mare, voglio portarti a conoscere il fascino del burgo antico. Andiamo! Andiamo! Vedi, questo è il percorso che ci porta direttamente sul sagrato della Basilica Romanica del XII secolo. Questa torre campanaria è rimasta intatta attraverso la sua conformazione. È la bellezza, è quella che alle spalle vedi questo sfondo azzurro che è il nostro mare blu. In questa piazzetta è proprio il caso di dire Benvenuti al Sud. Questa è la piazzetta che è stata la location principale del film Benvenuti al Sud. Tutta la regia ha saputo cogliere la vera essenza del paese. Qua c'erano tutti gli elementi che caratterizzavano la quotidianità di questo borgo antico. E oggi è diventata la piazzetta dove hanno girato Benvenuti al Sud, che è stata la ciliagina sulla torta che ha fatto conoscere a livello internazionale uno dei borghi più belli d'Italia, che è Castellabate. E questa piazzetta? Questa è una delle antiche piazzette di Castellabate. Non a caso si chiama Largo Stella Polare. Largo Stella Polare perché nelle serate terze e pulite, alzando gli occhi a cielo, si vedeva la Stella Polare. Che poesia! È poesia del borgo. E questo è uno dei gioielli architettonici di Castellabate. Questo è il Castrum Abbatis, il castello dell'Abbate. L'Abbate Costabile, insieme a Guglielmo I e il Normanno, firmano questo importante documento e fanno erigere su Colle Sant'Angelo questa fortezza. a Guglielmo I e il Castellabate.